Ben ritrovati con AgriMag News. Il credito d'imposta già vigente prima del 2017 anche per altre imprese turistiche ricettive è pari al 65% della spesa sostenuta per i suddetti interventi effettuati nel 2017, fino ad un massimo di 200 mila euro. Gli imprenditori agricoli che effettuano interventi in strutture agrituristiche di ristrutturazione edilizia, adeguamento antisismico e messi in efficienza energetica degli edifici potranno richiedere il credito d'imposta prevista per gli agriturismo dalla legge di bilancio 2017. La richiesta dovrà essere presentata nel 2018 non appena il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo avrà pubblicato l'apposito decreto ministeriale, dato che la somma destinata al credito d'imposta è predeterminata, l'imprenditore dovrà verificare la pubblicazione del suddetto decreto ed essere tempestivo nell'invio della richiesta. Esauriti i fondi, il credito non verrà riconosciuto.